Ciao a tutti ragazzi qui è Dexta, oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online con la nuova moto volante ragazzi che è stata rilasciata con il DLC traffico d'armi questa moto si chiama Pegassi Oppressor come potete vedere ha delle ali e un propulsore vi faccio vedere il prezzo, io ragazzi l'ho comprata e oggi la proveremo e la andremo anche a modificare vi faccio però prima vedere il prezzo insomma ovviamente sul sito Warstock che è più che altro il sito dei veicoli militari però c'è anche questa moto allora questa moto ragazzi ha un prezzo normale di 3.524.000 dollari completando invece le missioni nel centro operativo mobile poi si avrà uno sconto e la moto costerà 2.650.000 dollari io l'ho comprata ragazzi senza fare la missione nel centro operativo perché sinceramente volevo provarla subito comunque c'è circa un milione di differenza di sconto ed è una cosa abbastanza buona quindi io personalmente vi consiglio di comunque sia farvi la missione per poi avere questo sconto però comunque io ho deciso di comprarla e oggi la andremo a modificare allora questa appunto ragazzi è la moto la cosa particolarissima è che praticamente la moto ragazzi ha il propulsore che ora vi mostrerò ma poi può anche come dire allargare le ali vedete così adesso andremo in una parte più illuminata qui si vedrà meglio praticamente avremo la possibilità di ragazzi allargare le ali non so come descrivere questa cosa comunque noi possiamo correre con la moto normalmente attivare ovviamente il propulsore però nel momento in cui attiveremo le ali la moto volerà ragazzi guardate qui cosa fantastica proprio niente non c'è cosa dire non ho cosa dire potremmo arrivare direttamente al bunker semplicemente svolazzando con le ali della moto una cosa ragazzi fantastica ovviamente adesso atterreremo gli atterraggi non sono mai una cosa proprio ragazzi buona tipo ora ecco ho aperto le ali e continuo a volare ovviamente potremo utilizzare il propulsore direttamente con le ali aperte e questa è una cosa impressionante perché andremo altissimi ora vi farò vedere allora attiviamo le ali ok andiamo 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 voliamo ora è propulsore vai ok siamo altissimi adesso guardate un po' ragazzi siamo molto alti ma la cosa bella è che possiamo continuare a rimanere in aria tipo come gli uccelli insomma che praticamente volano in aria e sfruttano l'aria con la gravità per continuare appunto a volare questo è quello che possiamo fare siamo già arrivati al bunker una cosa impressionante potremmo rimanere veramente tantissimo tempo qui però ovviamente noi ora andremo a modificare la moto ragazzi poi anche la possibilità di sparare a una mitragliatrice con cui possiamo sparare come vedete insomma ragazzi possiamo volare quasi ma dico quasi all'infinito cioè pensate non so buttandosi dal monte ciliad probabilmente facendo i giusti movimenti si rimarrebbe in volo non so per quanto ma per tantissimo tempo sicuro andiamo tranquillamente nel bunker perché questa moto va modificata nel centro operativo mobile non ci sono altri posti per andare a modificare appunto questa oppressor ma semplicemente ragazzi si può fare solo nel centro operativo mobile adesso noi vedremo un po' tutte le varie modifiche anzi noi siamo nel bunker si però no non ci credo posso ragazzi posso no vabbè le ali però non le posso aprire qui dentro cioè io posso andare nel bunker con la moto e il propulsore funziona no ok la moto è limitata va pianissimo ragazzi io ho tutto l'acceleratore premuto ma niente va pianissimo e praticamente non posso attivare le ali o altre cose però è bello veramente particolare non mi aspettavo che oltre che i caddisi potessero utilizzare anche altri veicoli qui dentro comunque andiamo a personalizzare la moto nel centro operativo che dovrebbe essere sulla destra che poi quello che mi chiedo io è questo è un veicolo personale però praticamente noi forse potremmo entrare nel bunker con qualsiasi auto credo a questo punto non lo so non ne sono sicuro è una cosa da provare comunque allora siamo qui vediamo se possiamo entrare si vai modifichiamolo perfetto ragazzi stiamo entrando dentro e poi ho visto che nel centro operativo mobile eliminando l'armeria e insomma le modifiche dei veicoli c'è la possibilità di trasformare uno slot direttamente come garage e portarsi in giro un veicolo allora qui intanto quel tizio ci sta dicendo che noi possiamo portare qualsiasi cosa di questi veicoli speciali e lui ce la personalizzerà vabbè comunque io per adesso ragazzi farò la moto poi ovviamente vi porterò anche gli altri veicoli senza dubbio allora blocco motore motore a vortice si molto più bello regolazione motore lo mettiamo ovviamente al massimo si abbiamo aumentato i cavalli carenature abbiamo a sciabola non saprei sinceramente preferisco quella normale si parafagni anteriori anche questo a sciabola si vabbè ragazzi potremmo personalizzarla al massimo vabbè dai questo lo metto perché ci sta serbatoi compresa d'aria doppia molto bello lo mettiamo poi luci fari all'oxeno poi andiamo a mettere le livree ci sono pure le livree ragazzi guardate un po' alcune neanche si vedono tanto però queste si tipo queste ragazzi battaglia navale boh neanche riesco a vederle vabbè che sono bloccate però me le dovrebbe far vedere lo stesso allora l'acquisto di questa livree può essere sbloccato completando il relativo progetto di ricerca del bunker ah praticamente ragazzi come abbiamo visto in un precedente video ricercando facendo la ricerca si sbloccano dei potenziamenti per delle armi o comunque dei potenziamenti per i veicoli ecco e qui andando praticamente a ricercare e sbloccare quei potenziamenti avremo la possibilità di poi accedere a queste livree addirittura questa costa 29.000 dollari va bene comunque neanche li posso vedere possiamo mettere soltanto una di queste livree abbiamo moderna pentacolore sinceramente non so ragazzi cosa mettere li vedremo chissà dopo perché devo andare a mettere poi ovviamente la verniciatura qui non metto vabbè si lo metto il parafango posteriore verniciatura colore principale metallizzati e qui vediamo un po' che cosa mettere ragazzi non so vorrei la moto con un colore un po' chiaro quindi non so magari metterò un classico giallo anzi no arancione chiaro può essere non lo so andremo a vedere ok voglio mettere questo giallo vediamo anche gli altri colori comunque non lo so è strano c'è molto riflesso qui dentro il centro operativo ragazzi quindi i colori sono un po' particolari anche blu profondo è molto bella comunque vediamo cioè io moto gialla non ne ho quindi ho deciso di farla come colore secondario ok abbiamo praticamente esatto esatto quelle linee e penso che il rosso formula sia perfetto no rosso torino si metto il rosso torino ragazzi perfetto poi cosa abbiamo sedili a sciabola anche i sedili e poi minimalista allora probabilmente la moto è per una persona sinceramente non ho visto ma credo proprio di si perché non c'è lo spazio per una seconda persona e voglio mettere ragazzi non so praticamente con minimalista rimane il propulsore dietro che però purtroppo non mi fa vedere non posso girare la moto di più comunque mettiamo un attimo minimalista vediamo ragazzi se posso guardare qualche altra parte della moto perché non mi fa no no niente non non mi da la possibilità di girare completamente comunque va bene in quel modo ragazzi perché è molto cioè si vede così il propulsore tanto la moto è per una persona sola quindi tanto vale mettere il il sedile proprio al minimo poi potremmo pure venderla ma non mi interessa e poi quanto è il prezzo a due milioni ovviamente si perde si perde molto allora tre le missioni li mettiamo da gara poi turbo lo mettiamo armi missili addirittura ecco qui ragazzi eh sbloccando ecco qui andando a sbloccare poi la ricerca e tutto quanto potremmo mettere i missili con un prezzo di 171 mila dollari per il momento ci sono soltanto le mitragliatrici quindi poi sicuramente le andrò a modificare tipi di ruote ruota anteriore standard ok qui abbiamo la possibilità di modificare le ruote va bene non so cosa andare a mettere però ovviamente qualcosa metteremo direi old school old school va bene qui mettiamo a questo punto un rosso si detto che abbiamo fatto come colore secondario il rosso questo qui ragazzi penso sia perfetto rosso fuoco vai pneumatici design personalizzate poi antiproiettile fumo mettiamo il fumo rosso comunque ho fatto le stesse quasi personalizzazioni della rocket voltic perché questa moto ragazzi praticamente è una sorta di rocket voltic però invece che un'auto è una moto e ha le ali in più cioè voi immaginate una rocket voltic con le ali sarebbe un'altra cosa incredibile comunque abbiamo finito le personalizzazioni andiamo a vedere un attimo le livree con quest'altro colore ecco si vedono nettamente meglio però a dirvi la verità queste livree non mi piacciono tanto ragazzi assolutamente no forse queste qui da sbloccare saranno molto più belle penso però purtroppo non ho neanche la possibilità di vederle perché sono completamente bloccate quindi niente allora usciamo dal bunker oppure no usciamo dai direttamente dal bunker tanto dentro al bunker non posso utilizzare il propulsore e tutto quanto ok siamo fuori allora questa è la moto rispondiamo a LGT ancora che lui insiste con questi stabilimenti vedete riducendo il sedile ragazzi abbiamo il propulsore più in vista sinceramente mi piace di più allora niente andiamo ora la moto è più potente qui ora facciamo una bella cosa apri le ali e vola 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 ok siamo altissimi siamo altissimi e vediamo se passo se passo sopra la prigione vediamo se mi da le stelline penso di si ragazzi no vabbè sarebbe assurdo sicuramente mi daranno le stelline penso proprio di si vediamo ecco qui ragazzi stelline prese comunque torniamo in strada queste ragazzi erano le modifiche della moto è bellissima cioè vedete continuo io a volare addirittura secondo me non ne sono sicuro però secondo me facendo i giusti movimenti volando senza propulsore e nulla si può pure arrivare ad alte quote cioè possiamo addirittura aumentare la quota secondo me si facendo dei movimenti perfetti comunque cerchiamo di atterrare nuovamente così poi farò ragazzi un altro super volo vai togliamo le ali perfetto qui ci siamo gli atterraggi non sono proprio semplicissimi allora qui andiamo e superiamo ragazzi via la polizia voleva prendermi ma niente da fare comunque questa è la moto allora togliamo un attimo il livello di sospetto anche se potrei esaminarlo facile però ne abbiamo quattro di stelline non è una cosa semplicissima da come dire aggirare quindi chiamiamo l'ester vai rimuovi perfetto ragazzi livello di sospetto rimosso allora facciamo un altro volo col propulsore atterriamo ok ce l'ho e ora però voglio mettermi in una in una collina vediamo come viene vediamo ragazzi esattamente come viene allora mi metto qui apro le ali vai propulsore ok si va sempre sempre altissimi si sempre altissimi oltretutto poi ragazzi quando si salta da come dire da un posto all'altro per esempio che ne so prendete una rampa praticamente voi prendendo la rampa e aprendo poi le ali potete tranquillamente prendere il volo si tratta di questo comunque una cosa molto utile soprattutto con la moto che magari quando fai i salti poi ti trovi delle auto di fronte qui c'è un altro bunker si ragazzi vediamo un po' allora non ne ho visti altri oltre il mio finora non ho visto altri bunker ovviamente posso solo guardarlo da fuori però però questo ragazzi è un altro bunker insomma segreto vabbè io ho preso quello più costoso e penso pure che sia il migliore però vedete questo costa meno è leggermente credo più lontano vediamo se si ragazzi vedete il mio è qui questo si trova leggermente più lontano costa sicuramente meno e ha l'entrata completamente libera mentre da me ci sono alberi case forse conveniva prendere questo non lo so comunque niente vogliamo ragazzi un'altra volta vai ali aperte no vedete si vola si vola vogliamo vogliamo all'infinito cioè vedete io forse sto prendendo quota no ora sto cadendo giù ok così posso togliere ovviamente le ali cadiamo come una normale moto qui li riattivo e sono morto niente dovevo dovevo spostare la moto un po' tipo per impennare cosa che non ho fatto questa era la moto volante qui da extra lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.